musica 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 ok buonasera proviamolo vediamo turista non vuoi problemi se qui solo per godi altri paesi c'è la storia quanto non hai paura di movimentare le costi imprenditore vediamo con pretendente non so manco di cosa si tratta sto gioco musica 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 vediamo un po' che bello allora vediamo un attimo devo vedere pure la live perché sennò non ci capisco nulla prendere non ci capisco musica musica ma è una festa per i saints no vediamo un po' cosa succede va che questo si collega l'amico Nerai vediamo un po' di farlo insieme tolgo la roba in sovrimpressione magari da fastidio è meglio vedere tutto il gioco c'è il gattino eh va beh si balla se fassi in te busserei e bussa a bussio Antonio con la spina apri Antonio con la spina ah devo crearmi un personaggio ovviamente mi creerò un maschio capi che c'è le tette c'è ne è da pacco che ho protesi no protesi no alle gambe ce n'è una ma no lasciamo perdere lasciamo perdere definizione muscolare venature ma va selezioni come sta selezioni perché c'è stai macchie? perché c'è stai macchie? aspetta si c'ha le macchie sono un tipo macchiato eh no che non sente che 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 sì 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 sono uno bello bello popolare bello famoso oh cazzo che è successo ah sono io mi macchiate come avete fatto lasciatemi mi stanno seppellendo perché bastardi proviamo benvenuti alla industria di difesa non è stato facile ma non è stato facile non è stato facile ma non è stato facile ma non è stato facile ma non siete solo hai avuto un po' di live fire esercitati hai avuto ma non è stato facile ma non si parla ma non si parla si parla atticus Marshall atticus Marshall atticus Marshall ah ah addirittura fanno se cose Marshall with a little TLC technologically advanced weapons, loose morals and a culture of conflict now let's take a step through each of those letters why are you watching that now? it's the orientation video I know what it is, why are you watching it now? well I mean, we're about to be shot at so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package if you weren't paying attention to the briefing I don't think you'll live long enough for your copay to matter so I should be reviewing the life insurance policy you know our job interview has a 5% mortality rate statistically the odds were low that you would die before we hired you but I allowed myself to be an optimist your parents should have treated you better yours should have treated you worse alright ladies and gentlemen contrary to your colleague's demeanor this is no laughing matter the Nawali already took out one team that was sent to bring him in and I want as many of us going home as possible so stick to the plan, work together and let's grab that son of a bitch heyyyy stay calm bella let's get paid ma vengo io e spacco tutto che devo fare? che devo uccise? alpha team go! first day on the job, let's do this che grafica però, che mo' che grafica però, che mo' turrets, take cover oh hug that was close hug per un peo c'è una maniera per schivare la roba o devo prenderle tutte ah è troppa la grafica aspetta un attimo abbassiamola un po' perchè non ce la faccio con la uhhhh triple bluff aí ok hoff oh shit sfocatura, mettiamo eeeh, mettiamo bassi Ah ma da dove mi sparono? Allora ci si apre il menu Ma come si si aprecia, non si aprecia la velocità Bene, uno ne ho provato Penso sia di qua che devo andare Non ci sono i miei Amici Noobie? You still alive? You sound like you lost the pool Fall in, we'll use this APC for cover A rolling shield, nice No, I'm delighted you approve Bailey, make a hole Roger that Now let's go, through the breach Go, go, go Come on Keep it up Steve, let him have it Yeah, you guys fucked with the wrong multinational private military corporation I'll go around them Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work, if you survive to collect it Got it, trying to understand the pay structure You can't stop me Trigger discipline damage I'm out Yes ma'am Yes ma'am I got it, I'm good with these Now that's not You are damn lucky we don't have time to argue This isn't over Take that turret dammit Take that turret dammit Entrad You wanted the turret? Get your ass in it Take the turret I had a blast I did the turret But I have to get there You have to get there No matter of fact Anne Look at me I'm out What a mess I'm out I'm out The turret Beine! 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 Eccolo! 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 Sempre il loro track Gwenn? Gwenn, puoi sentiremi? Qualcuno? Atterrare un nemico e ricoprire l'energia nello nel compartimento... Ottimo Ah forse diceva col pugno di atterrare un nemico Ma che calcio che prendo? Ma che calcio che prendo? Che muove? Che c'è da un calcio eh? Che c'è da un faffo eh? Che c'è da un calcio eh? Che c'è da un calcio eh? Non mi rompete i coglioni tutte queste cose... Tieni premuto G? Perchè? Ah le armi eccolo! Gwenn? You're still alive? Yeah! I hear that a lot! The Noali's hold up in the saloon up ahead! Rendezvous with the rest of us and we can box him in! In a minute! Gonna clear out some goons first! I gave you an order! 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 We don't want to come behind us later! Fine! But next time I gave an order! The only words I want to hear are yes and ma'am! Got that? Uh... Yes ma'am! E' uscita da qua dentro! Dice che ce ne sono un sacco qua dentro! T'i puntini rossi sulla mappa! Hoppla! E' muore! C'è stato Peter! Cazzo pa! E' muore! Pena tight! Juj.. ? ? ? ? ? ? ? ? ?ذا ? Ok, andiamo Onde dove devo andare? Qui? Il c4 dovrebbe prendere la barricade Qua? C'è? Ok, prendi Non è qua, vero? No, di qua, porta No, 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 aspetta Ah, non è qua, no, è qua Ok Ha, non ho fatto questo nel mio ultimo lavoro Andiamo No, siamo noi Ok Mi sparo, mi muoio Andi attraverso il fronte, mentre ci resta guardiamo il centro Flank? Ma io posso... E ecco, ma È sì, grazie E ecco Novi, torniamo in formazione Sì, l'anno Allora, squad, proviamoci che c'è un po' di più Sì! Do you think you can hide from me? This will hurt you more than me! Let's make this quick! Get around them! Where's Charlie team? We're being overwhelmed! Hold fast! If we go down, we go down fighting! Relax, soldiers! Charlie team is here! Sit back and let us wrap this up! Nice timing, gang! Perimeter secure! Now get in there and flush that son of a bitch out! What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Mr. Nawali? You're coming with me! You really think you have what it takes to bring me in? I mean... Yeah? Hey! Where are you fucking going? I said you're coming with me! Perhaps I don't respect your authority... Then respect this! You set one foot on those stairs! Holy shit! No you goddamn don't! No you goddamn don't! Give it up, Nawali! There's nowhere to hide! Give it up, Nawali! You're surrounded! Make it easy on yourself! Oh! What the? I can't find him! Nevermind! Get back here and recruit! We've got the bastard bottled up with nowhere to run! We know he's in the saloon! He can't stay in there forever! What the fuck? Thanks for the ride! I'll see you around! We need air support now! Stand down! We don't got time for hero bullshit! Don't worry! They got this! Gwen! We've got a problem! Hang on! The cavalry's coming! Oh shit! Come out with your hands up! Oh shit! Ah shit! Let's take them out boys! Ah shit! Ah shit! Ah shit! Scusate ma sono molto stanco, non ce la faccio, chiudo la live, ci ribecchiamo domani, dai buonanotte a tutti.